vai 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 ricci ricci ma tu sai che prima di me mi ha tagliato un po' è stato l'unica volta che mi ha fatto il tappo di Davide tu sai che non è il tappo di niente ma che la foto mi cagava a mano ma tu ho pienso pure eh ho pienso pure ho pienso pure quant'è per la madonna che l'ha chiamato di tutto prima che c'è sotto che vuoi chiamare nei tisnicchi eh nei tisnicchi questo è un po' di razz, nei tisnicchi Massimo mi spiegamelo un po' che ho fatto la cosa fondamentale del calcio ah cosa fondamentale del calcio? se ti spiegherò se ti faccio l'esempio con chi usa il ciappone e mangia per esempio no per l'esempio stai ruggando qui mi fa spiegare cosa fondamentale del calcio eh no, ha fatto no ha fatto no ha fatto spiace la cosa di maggio, c'è prima di maggio ma la cosa di maggio la cosa di maggio praticamente no, oggi sono quella di un'altra praticamente no in difesa se stai giocando con 3-5 a giro a giro a giro a giro a giro a giro poi invece invece le tre giro a maggio stai a perso a giro il nome di maggio ma che stai giocando con 2 maggio ma che stai giocando a fare? guarda Michele e Spagale ma che stai giocando a fare con questo? eh secondo me ah in questo ho detto che stai giocando domani mi parla solo di questo quando hai detto praticamente hai detto eh come maggio e hai detto come i suoi strunti non so che c'hanno strunti maggio quando ti accatta uno come Cristian ammaggio mottis si ridicolo ma è giuto capello come dice che sei giuto che c'hanno strunti è giuto